Ciao, io sono Elisa, ho 22 anni e nell'estate 2015 ho avuto la possibilità tramite il Charity Work Program di fare un progetto di volontariato in Bolivia. Grazie a questa esperienza ho potuto toccare con mano quelle che sono le basi culturali di un paese meraviglioso. Io durante il giorno lavoravo e svolgevo attività di volontariato in un centro di riabilitazione neurologica dove c'erano dei bambini accompagnati dalle famiglie. Io studio scienze pedagogiche e quindi ho potuto approfondire e affiancare una pedagogista del centro e quindi conoscere quelle che sono le sue tecniche di lavoro e ampliare le mie conoscenze in questo ambito. Ho svolto questo progetto insieme a Giulia che è la mia compagna di viaggio e entrambe vivevamo in una missione di padri bergamaschi. Loro ci hanno accolto come se fossimo in una famiglia e ci hanno permesso di conoscere quelle che sono le tradizioni, le festività, come vive la gente del posto e quindi tutto questo è stato meraviglioso perché mi ha permesso di tornare molto più ricca di quando sono partita perché è stato proprio uno scambio culturale. Io ho conosciuto tantissimo della loro cultura, di come agiscono, delle feste, di tutto ciò che fanno e ho potuto portare una parte di quello che è il mio studio e di quello che sono io.